Mi trovo approdato qui alla Biennale di Venezia del 2013 e come ho svolto a poc'anzi una performance, un action live painting dipingendo in una tela di 2 metri per 1,70 m la quadriglia di Apollo di Venezia del 2014 di Venezia del 2014 di Venezia del 2014 di Venezia del 2014 la bellezza della scultoria di questa opera d'arte di Venezia del 2014 di Venezia del 2014 di Venezia del 2014 di Palermo quindi ho voluto rappresentare questo esempio di grande e notevole bellezza che si trova anche a Vienna di quadriglia con Apollo a Milano a Berlino nella porta di Brandeburgo di Venezia del 2014 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.